Sai perché? Perché? Non abbiamo una chiusura a questo momento. No, ce l'abbiamo. Possiamo fare un'altra coppia. Dì, un'altra coppia. Possiamo fare Little Richard e Elvis Presley. Eh? Little Richard. Vedi, te, vedi, quando parli non sei chiaro. La gente dopo fraintendi che tu dici, per forza. Scusa un attimo, Little Richard, capisci? Cioè, Little... Cioè, allora, togli Richard e dici Little Tony. Eh? È più facile, no? Un camisette, il Tony... Anche Bobby Solo sarebbe meglio, no? Eh, sì, sì, no, eh no, è Little... Little Tony, va bene. Vicino a Little puoi mettere solo o Tony o Richard. Adesso facciamo Richard. Tony poi, Little Tony, lo facciamo inire alla quarta puntata. Eh, ricordati, eh. Va bene, sì. Sei invitato. Anche te, eh. Eh, voglio... Cosa fai? Mi dà di lei? No, ho detto cosa fai. E ti seguo, te, che fos, vestitosi, cosa vuoi fare? E che tu fai te? Ti seguo, che tu fai? Se te mi dici, faccio questo, io lo faccio. Allora, dai, dai. Un attimo. Ma già hai definito? Sì, portalo. Vediamo i microfoni? No, no, vieni, vieni, ormai. Eh, cambiai. No, aspetta un attimo. È cambiato tutto. Allora, se ridete di me e di lui, cosa dovreste dire? Ah, mi chiedo. Però cammina un po' meglio. Sì. Oh, che si attacca. Di quello che ti pare. Sì. Vai. Sta' attento, il piede d'appoggio è importante in questo ballo. Dobbiamo andare di là, eh? No, io ti reggo al volo, non ti preoccupare. Rip. Set. Go all' man, go. E sai, dà zi. Do you like, let out. Vieni. Vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Gonna be d'appoggio è importante in questoKing form. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione